Grazie a tutti. Non intendo quest'anno, l'anno scorso, fare delle conclusioni perché ho cercato di accompagnare la vostra presenza con tutto quello che mi sentivo di poter produrre utilmente come spunti. E sono veramente lieto di dare la parola a Luigi Gnozzi perché la nostra relazione conclusiva coincide in un certo senso con il senso, con il significato che abbiamo voluto dare a questa cuoma estiva di eccellenza che ha veramente risposto il buono egregio attraverso la partecipazione dei studenti, devo dire eccezionale. Allora, come già preannunciato, questo mio piccolo discorso è intitolato Viva la Resistenza. Una trentina d'anni fa iniziai la mia conferenza inaugurale per la mia nomina di professore ordinario al Politecnico Federale di Lausanne con queste parole. Questo compito di esaminare pubblicamente la vita umana sotto l'aspetto delle sue qualità morali e fino a che gli accademici non riusciranno a giungere ad una coscienza intellettuale sufficiente per formare dei cittadini responsabili e attivi in modo di portare a termine il processo verso una democrazia sostanziale, questo compito resterà l'obiettivo principale degli intellettuali e degli insegnanti. In questo senso ritengo che la finalità dell'insegnamento dell'architettura non è tanto quello di formare degli architetti professionalmente capaci, ma piuttosto quello di formare degli intellettuali critici dotati di una coscienza morale, fine della città. Con questa mia introduzione cercavo di sottolineare il fatto che l'architettura non è una disciplina neutrale rispetto alla società. Alla base della mia riflessione del mio operare, dunque alla base del mio modo di insegnare e di progettare, c'è sempre un fondo politico ideologico che si inserisce nella concezione socialista del mondo in opposizione tra una visione utilitaristica ed efficienza. Ma all'interno di questa prospettiva ideologica, penso che l'architettura deve preservare la sua autonomia disciplinare. Penso che il solo modo di attribuire all'architettura un significato politico sta nel suo approfondimento specifico. E' il solo modo con il quale l'architettura può avere un'influenza anche sui fatti strutturali della società. Non sfuggire alle tue responsabilità, occupati della forma. In essa ritroverai l'uomo. Se non attribuisco al progetto dell'architettura un ruolo politico diretto, mi oppongo a qualsiasi tentativo di separare l'impedio disciplinare da quello politico. Ciò implica che anche le scuole di architettura devono difendere la loro autonomia rispetto alle esigenze del professionalismo in modo da poter esercitare nella più grande libertà la loro funzione critica. Ho cercato di riassumere questa problematica per i miei studenti con il seguente schema. Allora su questa tabella a sinistra c'è il titolo architettura dall'altra parte società e politica. Sotto architettura leggiamo L'architettura tende verso il permanente e non verso l'effimero. Società e politica tendono verso l'effimero e non verso il permanente. Sotto architettura c'è ancora scritto Per sua natura è anti-efficiente. La società e politica sono una ricerca della massima efficienza. Se dovessimo tentare di elencare da una parte e dall'altra di questa tabella una serie di rinomati architetti attuali vedremo che la maggior parte dei grandi nomi, oggi più riconosciuti e quasi sempre richiesti per le grandi opere pubbliche sono organici e funzionali alla società attuale il cui valore è primo al consumo mentre avremo una certa difficoltà di elencarne sotto architettura. Da questo semplice schema messo alla sua correttezza si deduce che un architetto non può che trovarsi che in una posizione di resistenza alla società attuale. Un altro tema centrale della mia attività sta nel rapporto uomo-natura. Ho basato gran parte del mio insegnamento su aforismi scritti nel 73 per i miei studenti del Politecnico di Zorigo di cui ne citerò alcuni ma prima vi propongo due aforismi non miei il primo di Carlo Cattaneo e il secondo del mio amico premio Pritzker Paolo Mendes La Rocha architetto brasiliano che riassumono in modo chiarissimo quale può essere il rapporto tra architettura e natura. Di Carlo Cattaneo una regione si distingue dalle selvagge in questo che è da un immenso deposito di fatica quella terra dunque non è opera della natura è opera delle nostre mani è una patria artificiale più drastico e al limite blasfemo quello di Mendes La Rocha la natura è una merda la mia illustrazione dai primi tempi dell'umanità l'uomo per conquistare il suo spazio vitale ha dovuto iniziare una continua lotta per la trasformazione della natura in cultura per reagire al dubbio aspetto di questo confronto se da una parte la natura gli fornisce tutti gli elementi indispensabili della sua sopravvivenza dall'altro lato essa gli si oppone con tutte le sue forze ostili la città rappresenta oggi l'ultimo stadio di questo confronto per cui essa può essere definita o da me definita come la patria naturale dell'uomo grazie alle fatiche umane la città contiene il fuoco dei vulcani la sabbia del deserto la giungla e la steppa la flora e la fauna tutta la natura questa concezione dinamica del paesaggio si pone in antitesi con tutte le teorie fondate sull'adattamento e sull'integrazione teorie ancora molto diffuse nelle diverse commissioni di protezione dei siti e dei monumenti storici come nelle pratiche della pianificazione urbanistica non si tratta quindi per l'architettura di integrarsi in un sito ma di costruire un nuovo sito in un rapporto di confronto e non di sottomissione all'esistente l'alpinista è felice in mezzo alle montagne perché sa che al di là dell'orizzonte c'è la città il marinaio è felice in mezzo al mare perché sa che dietro all'orizzonte c'è la città quando noi parliamo di città pensiamo inevitabilmente alla città storica essa rappresenta ancora oggi l'avvenimento urbano più significativo i due concetti città storica e architettura moderna sono indissociabilmente legati senza l'architettura moderna la città storica perderebbe ogni significato essa partecipa attivamente al progetto della nuova città la storia diventa così materia fondamentale per l'architettura una buona analisi è già progetto questo lo dico particolarmente qui in Italia perché in Italia nella storia di architettura non si fa altro che analisi la macchina contro la visione consumistica del mondo è necessario cercare nuove soluzioni che possono riproporre in termini di architettura dei valori oggi alienati mi riferisco al valore del suolo come bene comune inalienabile ai valori cosmici e geografici un vero prato arriva fino al centro della Terra uno schizzo a sinistra c'è scritto ieri in tedesco a destra oggi a sinistra ieri e a destra oggi quindi parliamo dei valori ai vari valori ai cambiamenti delle stagioni all'alternanza del giorno e della notte ai valori degli elementi primari per la sopravvivenza dell'uomo come il sole l'aria la luce l'acqua i valori della storia e della memoria i valori delle fatiche umane quale dispendio di energie quale sforzo per ventilare riscaldare illuminare quando basta una finestra ogni intervento presuppone una distruzione distruggi con senno e oggi aggiungerei e con gioia dopo queste mie brevi e sintetiche riflessioni vorrei presentarvi alcuni dei miei ultimi progetti territoriali non solo ultimi ciò che li accomuna è la ricerca di una concreta risposta ai tempi lunghi di evoluzione della città e al problema della diffusione incontrollata della città attuale la cosiddetta città diffusa come primo progetto un vecchio progetto degli anni 72 su un piccolo villaggio sul lago maggiore a Brissale questo è il villaggio il villaggio ha una se riesco questo c'è un piccolo riale con la riale sanziale qui è il villaggio una parte il villaggio una parte il villaggio costruito una forma praticamente conclusa e dall'altra parte un grande spazio vuoto è una delle poche rive lo vedete qui in immagine questa è un'immagine degli anni 30 in cui non ci sono ancora gli interventi più disastriati che sono stati fatti negli anni 60 però si vede bene il villaggio da una parte e dall'altra parte questo grande spazio vuoto in cui solo in questo punto c'era una volta una fabbrica che è stata poi demolita negli anni 30 qui vediamo a sinistra qui il finale di questo spazio vuoto dove c'era la fabbrica vediamo anche la strada principale che entra nel villaggio si viene da Locardo da questa parte e si entra nel villaggio proprio a questo punto e questa strada è sostenuta da un muro di sostegno che lo vedete un muro di circa nove metri d'altezza questo qui vediamo il purtroppo il comune un anno prima di questo progetto costruisce la scuola elementare nel paese e costruisce una scuola veramente disastrata che rovina praticamente tutto questo luogo che è uno dei luoghi più straordinari di questo paese allora si vede qui a sinistra la strada che entra in paese il bellissimo piazzale per i bambini e la scuola qui a destra con una vista panoramica scusate vista dal basso si vede il riale a sinistra che è interessante scusate a sinistra qui che è interessante è questo muro di sostegno di pietra di una vecchia villa che è stata distrutta negli anni settanta o prima di questo progetto nello sfondo la scuola costruita dal comune e a destra ciò che è interessante che tutti i muri di sostegno costruiti dai bravi ingegneri diplomati e pulitecnico di giurio in una scuola prestigiosa sono tutti sono stati divelti dalle acque l'unico muro che tiene è questo muro di pietra che vi ho mostrato a sinistra lo vediamo adesso quindi il muro di pietra della vecchia villa la villa è stata distrutta e da questa parte tutti i muri degli ingegneri svizzi sono stati divertiti dalle bucce del fiume qui vediamo questo progetto è nato io ero membro della una commissione che già il nome è un programma assistante che si chiama commissione cartonale che si chiama protezione delle bellecce naturali come se di bellecce naturali ce ne fossero ancora quindi già il titolo è un programma assistante questa commissione ha il compito di esaminare tutti i progetti che entravano sul territorio ticinese dal punto di vista paesaggistico il rapporto col paesaggio allora a sinistra vedete il progetto che la commissione amava moltissimo perché è stato redatto secondo gli indirizzi dati della commissione quali erano gli indirizzi dati della commissione allora primo indirizzo gli edifici scusate gli edifici non potevano essere costruiti sulla riva del lago dovevano essere costruiti dietro la riva o distanti dalla riva seconda indicazione della commissione il muro di sostegno della strada cantonale che vedete là dietro vedete la strada lì tutto il muro che c'è qui doveva essere camuffato con degli alberi perché queste commissioni detestano i muri io dico la verità che se sul mio muro di sostegno dovesse crescere una sola margherita andrei anche se le margherite non crescono a Natale ma anche al giorno di Natale andrei a tagliarlo no un muro è muro e non è mezza natura e mezza poi la commissione chiede anche che gli edifici devono avere una facciata verso il lago di massimo 20 metri di larghezza per far sì che dalla strada cantonale sopra dalla strada dietro ci siano dei punti di vista sul lago per permettere punti di vista poi per inserirsi col paese ogni edificio deve essere molto articolato in pianta e in alzato e infatti vedete a destra tre edifici uno alto uno medio e uno basso quindi proibito fare tre uguali per queste commissioni perché la vaghetà e io ho un altro aforismo la vaghetà è il preludio alla monotonia se vuoi evitarla ripeti il tuo elemento questo è il mio aforismo poi l'altro l'altro dato era che la commissione diceva che i posteggi qui c'era una strada che aveva proposto il comune il comune aveva diviso il grande terreno che era tutto proprietario del comune prima lo divide in due la parte a sinistra della strada in giallo questa la tiene per sé per fare un campo da gioco per la scuola e la parte a destra la vende a dei speculatori privati per fare una settantina di appartamenti questi erano i dati della commissione cosa ho fatto io ho cominciato per la prima volta a esercitare il cosiddetto progetto alternativo che Kenneth Frempton il critico londinesi gli chiamava i progetti gueriglias siccome le parole non servivano niente in questa commissione era impossibile discutere ho cominciato a proporre il progetto alternativo quindi ho fatto un progetto per dimostrare come si potrebbe pensare diversamente e quindi vi mostrerò questo progetto allora come prima cosa il mio primo schiccio guardo sul posto disegno il paese e se vi dividi qui da questa parte a sinistra il paese dove metto in evidenza scusate scusate che io non ho nessuna dimistichezza con questi apparecchi di cui ha parlato il mio amico Berlini prima diffusamente io non ho nessun rapporto quindi ho le mie difficoltà ma qui vedete il paese si vede una forma conclusa con due elementi importanti la chiesa parrucchiale a sinistra se riesco ecco questa la chiesa parrucchiale e qui a destra il municipio i due elementi pubblici importanti in questo disegno noto anche una cosa per me importante il muro di sostegno che vi ho dimostrato della vecchia villa distrutta da questa parte che quindi mi servirà poi per il mio progetto e da altra parte il terreno vuoto con dentro questa maledetta scuola elementare allora cosa è stata dopo questa lettura molto semplice sono arrivato a questa conclusione che questo paese non è solo sulla sponda a destra del viare ma il paese è composto da due parti dalla sponda a sinistra e dalla sponda a destra una parte riempita piena e una parte vuota e mi sono detto che il valore di questo paese sta proprio nel rapporto tra il pieno di una parte e il voto dall'altro che poteva diventare il grande spazio pubblico per tutta la gente che abita nel paese quindi per fare il mio progetto cosa ho fatto ho preso tutti i dati della commissione di protezione e li ho capovolati la commissione diceva per inserirsi nel luogo bisogna bisogna progettare lontano dalla riva del lago e io dico per costruire questo luogo bisogna progettare sulla riva del lago non per proteggere la riva del lago ma per commuoverla che è un altro concetto secondo il luogo di sostegno della strada cantonale invece di essere promuffato con alberi da me diventava uno degli elementi principali del progetto quindi intoccato per rimanere terzo l'edificio non tre edifici di 20 metri di larghezza e ognuno con differenze altezze ma un solo edificio 200 metri di lunghezza una sola altezza i posteggi devono essere messi sotto terra in questo caso vuol dire sott'acqua a parte i costi e io mi sono detto i posteggi devono essere messi sul tetto al contrario quindi ho rovesciato tutti i concetti e questo è il mio progetto allora vedete qui la situazione il mio edificio sta sulla riva definisce la riva del lago definisco questo grande ruoto unitario quindi tolgo la strada che c'era qui da cui il comune voleva dividerle il terreno in due mettevo quindi il terreno poi propongo la nuova riva del fiume dove tutti i muri dei giri svizzera sono caduti e dietro come definizione di questo grande spazio vuoto scusate il muro di sostegno della strada che costa niente perché è già fatto e pronto qui vediamo il piano terra il piano terra abbiamo dietro alla sezione del muro di sostegno della strada il grande prato che scende con il leggero declivo e da questo strato si ha la vista sull'arro perché il porto lo inserisco sotto il posto viene inserito sotto la struttura abitativa qui il porto delle barche e qui davanti il porto per le barcavele che prolunga il nuovo limite dell'argine del fiume da un'altra parte del fiume da questa parte mantengo il muro di sostegno del fine ottocento dalla rilla che abbiamo visto prima quindi io faccio un solo edificio sulla riva dell'aria lungo circa 200 metri questo è questo edificio questo edificio come ho già detto dal mio aforismo se vuoi evitare la monotonia ripeto il tuo elemento io obbedisco i miei aforismi quindi faccio un edificio con 10-12 edifici staccati uno dall'altro in modo che la vista dalla strada cartonale dietro è assicurata su tutta la lunghezza tramite questi spazi vuoti tra gli edifici questo edificio riprendo la in fondo la tipologia della unità d'abitazione del Corbusier a Marsiglia è un edificio di tre piani il piano intermedio ha un corridoio che in questo caso non è chiuso perché si entra in un corridoio e poi ogni volta che uno va nel suo appartamento ha la visione della montagna del lago dell'acqua sotto eccetera quindi conosce tutto il territorio e quindi ripropongo questa tipologia qui è l'altro piazzo nei due piani in sopra dove c'è il corridoio che non c'è più corridoio ma il corridoio perché gli appartamenti sono su due piani e alla fine c'era il problema dei posteggi ho tolto la strada che il comune prevedeva ho fatto un piccolo ponte che vedete qui pochi metri e entro sul tetto dell'edificio e metto il parcheggio nella parte più importante del terreno il posto più bello di tutto il terreno quel posto lì da dove si vede dalla Svizzera fino all'Italia a una vista straordinaria che abbiamo sul Lago Maggiore ora secondo me molti miei progetti è proprio il tema posteggio che dà la soluzione al problema quasi sempre e sono sempre molto interessato il posteggio prima di tutto perché amo profondamente l'automobile io lo trovo uno strumento straordinario per che l'uomo possa muoversi oggi detestato da molti tutti lo usano ma tutti ne parlano male io ne parlo bene e quindi il problema una volta quando si arrivava in una villa penso le ville panambiane si arrivava con la carrozza nel parco davanti alla villa e faccio la stessa cosa chi arriva con l'automobile arriva nel posto più bello vista appertutto vede le montagne da una parte il lago vede l'Italia vede la Svizzera e lì si lascia la macchina dalla macchina ci sono tre punti tre punti rossi sono gli elementi verticali con i ciclo scendere con le scale eccetera per arrivare agli appartamenti o introdurre qualche una passeggiata proprio davanti all'edificio questa qui qui davanti che è una passeggiata per i pedoni pubblica che conduce poi a un altro elemento verticale per attraversare poi i liali e in fondo un nuovo ponte per attraversare quei liali qui vediamo in alto vediamo la sezione dell'edificio verso gli edifici a tre piani il comitolo centrale i posteggi in alto sotto vediamo il terreno con una lieve pendenza e da questo terreno si ha la vista sul lago e qui è dove l'edificio ha solo dove c'è il comitolo centrale dove c'è la vista totale dalla strada sul lago in questi punti e sotto vediamo una facciata e questa facciata di questo edificio serve anche a mettere in evidenza a mettere in evidenza il municipio che sta dall'altra parte del fiume scusate qui quindi questo elemento teso lascia la trasparenza del giardino dietro in verde e mette in forza il municipio e questo è il modello di questo progetto come secondo progetto un'esperienza che ho fatto in Germania a Braunschweig mi avevano chiamato un certo professor per fare un corso di tre giorni e dovevo dare un tema ai suoi studenti per tre giorni un corso breve cosa ho dato come tema a sinistra la città il centro della città di Braunschweig e come sapete in Germania finita la guerra gli alleati bombardano i centri storici di molte città tedesche come ben detta e quindi bombardano anche la città di Braunschweig il centro a destra vediamo a sinistra il centro come era a destra il centro il giorno dopo questa è la realtà sul terreno rimangono 40 milioni di metri di cubo di detriti e sono in piedi ancora alcune rovine di chiese eccetera cos'era la mia richiesta in tre giorni ho chiesto agli studenti di proporre la ricostruzione del nuovo centro di Braunschweig dalla scala da 10 mila fino all'1 a 1 il professore reagisce e dice che in Germania le scuole d'architettura c'è la scuola addirittura la scuola di urbanistica questo è il lavoro d'urbanistica non è il lavoro d'architettura eccetera quindi è rifiuta il mio il tema che avevo dato agli studenti allora cosa ho fatto ho dovuto dare un altro tema e alla sera nel dergo ho dovuto tentare se si poteva dare una risposta a questo pensiero un po' folle di questa idea e vi mostro quindi il progetto che ho fatto in albergo questa è la città di Braunschweig nell'epoca barocca con le mura fuori la campagna e le mura sono appunto la forma stellare della città con fuori il camere d'acqua il camere d'acqua i monumenti che emergono con il tessuto edilizio all'interno tipica città barocca dell'epoca questo è il mio primo schizzo cosa ho pensato di fare siccome Braunschweig è la città dove Adolf Hitler è stato battezzato tedesco lui era austriaco l'hanno battezzato proprio Braunschweig ho pensato di prendere questo centro di Braunschweig per farlo diventare il grande monumento internazionale contro la seconda guerra mondiale come è emblematico allora prima operazione che faccio da Braunschweig i svizzeri puliscono sempre no? dov'è tutto puliscono sempre no? ci sono giù 40 milioni di metri cubi di detriti bisogna puoi mettere da qualche parte allora metto i detriti lungo il luogo dove c'erano le vecchie mura che erano già state abbattute prima e metto l'altro una specie di contorno attorno e sono ma sono muri di grande altezza arriviamo anche ai 40 45 metri molto di più che le mura barocche i quali definiscono questo grande spazio vuoto poi levando i detriti succede una cosa interessante che sul suolo siccome i bombardamenti non bombardano le fondazioni le parti sottoterra allora levando i detriti cosa si fa? si fa un rilievo si ha un rilievo in scala 1-1 che chiedevo preciso di come era la città medievale tutto l'anno il disegno mediale è sul suolo poi dove metto il nuovo centro di Bronsal all'esterno qui all'esterno densifico i quartieri attorno e riempio una città molto densa dove ogni strada principale che riprende i ponti non vecchi ponti di Bronsal entra in questo grande vuoto mi dicevo finalmente una città europea dove al centro non c'è né coca cola né né cose nei banchi eccetera ma finalmente il vuoto il grande silenzio per pensare a quello che noi europei abbiamo combinato qui vediamo una sezione anche qui come a brissare fuori i nuovi quartieri il pieno contro il vuoto interno il vuoto interno si vedono le rovine che mangliano in piedi nero e le mura che contornano attorno il canale e i ponti di entrata che riprendono i vecchi ponti della città e qui è un modellino di pastelina che avevo fatto lì in albero in cui si vede l'idea fuori la nuova città le mura che contengono la vecchia città di Braunschweig e sul piano leggete come a Pompeino il rilievo di tutta la città storica in scala 1-1 precisissima perché è la realtà questo lo lascio via se non vi è tutto più lungo qui c'è un piano di protezione del parco dei Colli Ogani a Padova allora vediamo la sezione Venezia qui qui è Padova qui è come si chiama la città di Padova Vicenza e qui abbiamo questa questa macchia che vedete che sono questi famosi Colli Ogani che sono una ventina di colline a forma no a colica che sono colline che provengono di vulcani non vulcani sì no ed è un mondo incredibile perché tra le colline ci furono delle valli e ogni parte di questo territorio ha del clima vegetazioni eccetera completamente diverse cioè quindi è impossibile pensare a fare un piano dei Colli Ogani perché è una diversificazione totalmente totale che è difficile pensare qualcosa io sono stato chiamato lì perché avevano dato a degli architetti italiani di fare un piano per proteggere questi Colli e la popolazione ha poi reagito circa dieci anni prima ha poi reagito perché la popolazione voleva costruire i Colli e questo piano impediva qualsiasi costruzione permetteva solo e quello si fa solente in Italia di costruire queste stupide imitazioni delle vecchie case con i vecchi tetti ma se era possibile altro non era possibile allora vengono da me a darmi questo compito e vi mostro la mia idea su questo piano allora a sinistra era il concetto del piano primitivo il piano primitivo cosa faceva contornava la base dei Colli all'interno del Colli praticamente proibiva tutto tranne imitazioni delle vecchie case il mio concetto è al centro tutti mi hanno parlato che questi Colli e quelle sono cose straordinarie paesaggi meravigliosi come prima cosa ho preso la forbice e ho ritagliato fuori i Colli e ho fatto un buco nel piano bianco e quando l'ho presentato ho detto a me i vostri Colli non mi interessano ma se vi che i Colli come dite se è il vostro monumento io penso che ogni monumento deve avere uno gioco uno supporto deve avere una base fondamentale io mi interesso alla base dei vostri Colli e non mi interessano questi Colli per cui è nata questa per quanto riguarda invece i Colli in sé l'ho detto non faccio nessun piano perché se si vuole se costruire i Colli bisogna fare almeno 30 piani regolatori non uno perché ogni giorno è talmente diverso dall'altro che bisogna diversificare per cui non ho fatto il piano di quello questa è la mia idea il Colli il grande monumento prima idea si fa la base non si contorna no il centro il monumento è la base e mi sono come spesso mi sono sempre venuti in aiuto i romani mi sono un grande amico dei romani però mi hanno sempre aiutato qui mi aiutano due volte cosa hanno fatto i romani questi sono i Colli al centro i romani un lato di questo ruolo che avete lì era il famoso il nostro ruolo che fosse prima meglio c'è un canale Brenta che parte da Venezia 1120 mi pare dei romani costruito dai romani che parte da Venezia va a Padua poi allunga i Colli da questa parte a sinistra allunga tutti i Colli e si arriva quindi oggi ai Colli Ugani con i batteri e ci sono i porti anche la Rabanoterme le città che sono lì sotto questi sono i romani per cui io non faccio altro che recuperare l'idea dei romani con questo lato fatto dai romani e stendere l'idea dei romani attorno ai colli per creare questo zocco e io lo pensavo come un grande tappeto un tappeto alla Pau che immaginavo che lo stendo sotto i Colli per dar valore ai Colli sui Colli non lascio fare niente blocco anche l'ampliamento dei piccoli villaggi come Abanoterme eccetera che ci sono alla base dei Colli ma propongo che dove ci sono i porti li vedete lì disegnati all'esterno del rettangolo propongo dei grandi aree per l'ampliamento delle città che stanno all'interno all'interno di questo rettangolo ricopero un altro elemento dei romani le centurie romane che ce ne sono ancora diverse e quindi propongo le centurie e lo vedete qui nella realtà eccetera il progetto con le centurie e Colli come monumento questo era poi l'elemento definitivo si legge qui a Abanoterme all'interno e fuori queste aree dove possono perché volevano fare un centro turistico a livello internazionale così da questo punto qui i Colli praticamente non toccati devono diventare l'elemento di riferimento per tutti gli alberi eccetera e in queste zone esterne al canale si poteva costruire anche i grattacieli quello che volevano erano indipendenti dalle strutture che esistono lì in queste zone questo è il penultimo poi passo all'ultimo è un piano guida del comune di Cabras in Sardegna bisogna dire che in Sardegna quando c'era è stato destituito per via del Berlusconi dopo il Soro che era il capo di Sardegna e Soro ha preparato una legge una normativa che esiste ancora oggi per proteggere le rive di Sardegna quindi in Sardegna su tutte le rive attorno a Sardegna non si può più costruire fino a 2 km di distanza però durante questa fase proposta da Soro permetteva ai comuni di fare altre proposte alternative però lui voleva che prima di costruire eventualmente sulle rive i comuni si adattassero di piani regolatori ben fatti allora io ho ricevuto dal comune di Cabras il tema di fare tre villaggi per i turisti su tre terreni li vedete qui in Viola che sono a poca distanza dal mare il mare è qui bianco ci sono due stagni due grandi stagni dove si pesca e qui è un grande terreno leggermente ondulato un luogo straordinario con le spiagge più straordinarie di Sardegna perché queste spiagge la sabbia non è fatta con le granelli di sabbia ma è fatta con i granelli di madreperla delle conchiglie per cui non si può neanche portare via 10 grammi di sabbia perciò è molto incredibile è una cosa straordinaria abbiamo l'inizio da questa parte le rocce e poi da chi via il piano questa è la situazione e lo vediamo qui questa situazione io quando sono arrivato prima volta sul posto cosa vedo non sapevo come si potrebbe pensare e vedo i famosi trulli e non trulli i norari in quella zona lì dove dovevo costruire c'era circa l'ottantina cioè i norari sono forme antiche costruzioni con forme geometriche precise sono di pietra e sono sparse nel territorio secondo elemento che trovo sono i noranarios i noranari i noranari sono dei piccoli villaggi ma non sono dei veri villaggi ma sono case di abitazione generalmente sono un rettangolo dentro un grande spazio libero dove c'è la chiesetta e lì la gente dintorni va ogni per dieci giorni o quindici giorni va a festeggiare il santo patrono della zona poi se ne ritornano a casa quindi sono villaggi non abitati normalmente e anche questi hanno questa particolarità sono hanno forme geometriche precise sono di pietra e sono sparse nel territorio qui a Cabras ne ho trovati due terzo elemento le chiese romaniche le cose più straordinarie in Sardegna sono chiese romaniche che non sono tanto nel paese nei villaggi sono fuori in mezzo a questi spazi così delle montagne veramente straordinari e queste chiese hanno forme geometriche precise sono di pietra e sono sparse anche esse nel territorio alcune di queste stupende meravigliose il quarto elemento che trovo sono le torri di controllo delle rive del mare dei genovesi 1500 anche queste cilindri quindi forme geometriche precise di pietra e sparsi lungo la riva quando ho visto questo territorio mi sono posto la mia domanda perché io quando faccio un progetto mi pongo sempre cerco sempre di arrivare a una sola domanda se arrivo a tre o quattro domande ne ridupo una e qui la mia domanda è stata questa bisogna riuscire a fare questi villaggi in modo da continuare questa tradizione di Sardegna cioè devono essere in ogni caso di pietra devono avere forme geometriche precise e devono essere sparsi in tutto il territorio cioè introduco quindi in questa lunga storia salva una quinta fase di questa storia con i villaggi turistici ma recuperando le caratteristiche di pastiglie e così ho fatto questa è la pietra questa è la Santa Maria il sinis questo è un'area questo è l'idea del progetto in rosso vedete le mie proposte per i villaggi ne ho proposti anche due in più uno su uno stagno e uno sull'altro stagno non ci sono strade oggi in questa zona qui però d'estate è pieno di bagnanti e è uno dei grandi problemi che c'è che non ci sono strade ma ci sono almeno diecimila macchine che girano dappertutto è un disastro totale perché le pecole sono ordinate perché quando la sera le pecole le portano le portano i recenti di pietra mentre le macchine sono anche un disastro totale per cui quando ho fatto questi progetti questi villaggi il primo contenuto compensato era il postigio ho fatto anche una strada che non c'era per arrivare a questi villaggi qui vediamo il territorio davanti qui è la zona delle rocce mentre proprio là comincia la pianura è proprio in questo punto che c'è un porto perché per i villaggi hanno bisogno di andare nel porto e qui vedete come la riva più ad oltre di questo territorio poi in più su questi miei terreni ci sono già le pietre ci sono già le cave di pietra con già le pietre intagliate bisogna solo le varie per costruire quindi tutto era pronto quindi sono formidabili queste queste migliori più un'altra di nuovo sono proprio lì dove noi costruiamo ci sono doppie le varie e costruire e questo è il progetto qui vedo dove ci sono la sinistra dove ci sono le rocce il porto e poi la cinta quindi una cinta di circa media di 4 metri di 5 metri di altezza di pietra e all'interno abbiamo si entra questa è la piazza principale il villaggio termina con l'elemento principale del villaggio turistico che è l'albero non è più la chiesa l'albero grande piazza poi le abitazioni per proporre le abitazioni scusate qui le abitazioni riprendo il tema dei novenari le abitazioni sono qui da una parte e dall'altra in mezzo a un grande prato non faccio la chiesa perché la chiesa ce l'ho qua era bello in fondo poi la zona sportiva campi sportivi eccetera e poi arrivano i posteggi i posteggi li ho pensati li chiamo le osi le osi è un pannetto sono pannetto sotto le pannetto si posteggia e poi tramite delle strade si scende sotto il terreno si scende scusate qui si ci sono le spogliatoie eccetera perché va a fare il panno lasciano la macchina e qui scendono a piedi circa 200 metri al mare quindi tutte le macchine adesso ci sono sono all'interno del muro alla fine da questa parte c'è il centro culturale cosiddetto il teatro aperto eccetera che recuperiamo dagli elementi delle cave che c'erano lì prima ecco qui vedete o meglio uno di questi piani di questo villaggio la sezione a sinistra l'albergo che è l'elemento naturalmente è la nuova chiesa prima delle chiese che marcavano il paese qui è l'albergo e il signor Sorum aveva dato come artezza massima 6 metri e mezzo e io ho fatto finta di non aver capito la cifra e ho tolto la virgola e ho fatto 65 tanto voglio cambiare 35 poi qui si vede la piazza e qui si vede il nove nari i miei nove nari questo a destra è lo spazio delle abitazioni con alla fine il grande albergo qui era un campeggio che domandavano fatto con lo stesso principio e vista dal mare dal mare questa idea che trovo interessante a sinistra a questa parte vedete l'albergo come elemento verticale che fa parte del muro di cinta poi il muro di cinta ci mette in evidenza le differenze del terreno è lui che ci spia e ci racconta di come è fatto quel terreno lì perché introdocono risultato il terreno sembra risultato i posteggi dal mare diventano elementi che marcano le medie escono dalle mura escono dalle mura il palaccio dei congressi quello rosso a destra e escono dalle mura anche il piano superiore il primo piano delle abitazioni in modo che chi abita ha anche la possibilità di vedere al di fuori delle mura naturalmente questa idea di questa grande murata è anche un'idea climatica per io quando sono tutti mi hanno parlato della meraviglia di questo luogo io quando sono arrivato su questo luogo era un luogo d'inferno un vento incredibile spaltoso impossibile di allastarci per cui il primo pensiero era proteggere l'uomo da questa maledetta natura quindi è sempre il principio contrastare questo elemento e finisco con l'ultimo progetto un progetto un po' particolare è la metropoli d'Olanda io sono stato invitato con Paolo Mendes La Rocha e con Siriany detto francesi di far cosa di esaminare i piani i progetti che gli olandesi avevano preparato negli ultimi dieci anni sull'idea della nuova metropoli d'Olanda perché sono accorti che queste città olandesi crescono e sta diventando una metropoli e vogliono anticipare le regole per la metropoli dovevo esaminare io come sempre ho portato il mio progetto Wearing già in tasca no non l'avevo già preparato prima ad ogni modo siamo arrivati tutti e tre alla medesima conclusione che hanno analizzato tutto quello che si può analizzare tutto migliaia di piani eccetera persino pensate che quasi tutte le strade d'Olanda da gennaio e decennio c'erano i piani dove e quante rane attraversavano le strade quindi c'era una pazzia totale quindi una conoscenza in fondo da territorio totale su questi piani e tutti e tre eravamo d'accordo però che da tutte queste analisi dal progetto nulla niente sono rimaste le analisi sia basta lo dico come prima è qui in Italia perché quello che si sta facendo si ha paura del progetto quindi si fa analizzare 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 pensando che queste analisi portano molto no non portano molto va bene allora questo è il presente del mio schizzo della mia idea la mia idea è stata prima cosa le città olandesi sono nate attorno a un cerchio il famoso cuore verde d'Olanda lo chiamano anni 30 è una strada di decisione degli anni 30 nascono l'autorno e guardano il mare la gran parte sono solo un paio verso l'interno e quindi la prima idea che ho avuto è bisogna impedire che una città cresca sull'altra prima decisione copresa quindi ogni città olandese siccome ogni città è diversa dall'altra bisogna delimitarla e le delimitano con nuovi confini e poi viscono l'estensione della città con alberi il problema è che al centro d'Olanda non c'erano alberi fino agli anni 50 non c'erano alberi perché dovevano farciare mulini a vento per vivere il canale il terreno all'interno è più basso del mare e allora oggi invece di nessun albero ce ne sono 300.000 perché sono arrivati i nuovi pianificatori del centro Europa a piantare piante dappertutto perché oggi è l'epoca della natura quindi piante piante allora io propongo di tagliare le 300.000 alberi titolando del centro e di utilizzarli per fare i limiti delle città perché piantare piante si fa in fretta fare edifici ci si impiega un po' più a lungo quindi fatto questa operazione abbiamo una serie di avevamo una serie di nove città due problemi che per tutto non è una metropoli sono nove città separate ma come Svizzero mi mancava tre città per fare un orologio Svizzero perfetto e quindi ne ho aggiunte tre ho fatto un orologio di 12 non di 9 e questo mi è venuto poi aiutato per un motivo di 0 va bene allora questo al centro propongo un viadotto alto 40 metri circa 40 chilometri di diametro su cui corrono treni a 400 all'ora per cui tutti si fa il giro d'Olanda e si vedono tutti bisogna dire che quando ho fatto questo progetto mi sono posto che io una sola domanda la mia domanda è stata è possibile fare oggi una metropoli in cui l'uomo può ancora orientarsi come nella città storica questa è la mia finalità e ho fatto questo per cui viaggiando con questo treno ognuno capisce la città poi il vuoto tra città eccetera il centro che esce sul mare e via di città lo scriccio c'era il tema tra Amsterdam che si trova qui sopra scusate Amsterdam qui e Harlem che qui c'è l'aeroporto di Skibbuk l'Olanda che è troppo piccolo e devono ingrandirlo e non sanno dove metterlo io propongo di mettere l'aeroporto in mezzo alle pecole e ai Tunipani perché il centro d'Olanda è il cuore verde d'Olanda lì c'è ricoltura fiori eccetera e metto l'aeroporto facendo questa operazione mettendo l'aeroporto lì l'uomo si orienta già già quando arriva con l'aereo anche un astronauta vede questa si orienta con questa nuova centralità perché scendendo quando scende dall'aereo scende l'aereo e vede le 12 città attorno la vederà perché ci sono ogni città riceve un'entrata e l'entrata sono due grattacieli che mi hanno criticato fortemente mi hanno detto ma non è abbastanza dei grattacieli di New York abbattuti da Birgade io ho detto no perché i miei grattacieli di Birgade mi li lascia in pace perché quei grattacieli non ci sono né banche né centri commerciali non c'è niente di tutto questo ci sono i lavoratori possibilmente messi in mani che costruiscono in Olanda che vengano costruire in Olanda però Birgade me li lascia in pace per cui ogni città non c'è una sua nuova entrata tanto può stringerci tra l'entrata e questo questa è una idea qui era il primo tentativo di leggere quello che impressiona qui sono i canali d'Olanda quello che vedete disegnati queste faccellazioni sono ho disegnato un canale ogni dieci io ho moltiplicato per dieci per avere un'idea di questo paesaggio è uno dei paesaggi costruiti dell'uomo più straordinario dell'Europa questo è il concetto dell'idea questi elementi questi grattacieli queste porte ogni città permettono di leggere tutto il cerchio se no non si leggerebbe per un 40 metri d'altezza un viadotto non si leggerebbe a quella distanza questi sono i miei viadotti preferiti questo è Notolini a Lucca questo è un altro viadotto in Giappone e poi qui la giunta delle tre nuove città come vedete qui sotto così ho le 12 ore in Svizzera e questo mi è venuto a favore perché quando l'ho presentato il progetto in Olanda che è stato il progetto più violentemente criticato e abbattuto dagli olandesi non lo sopportano sono persino venuti perché io l'avevo già mostrato quando sono dato la videoconferenza poi mi sono stato invitato al concorso eravamo in tre anche perché c'era un amico Yoko Nen il capo dell'architetto olandese che mi conosceva e mi ha invitato lo stesso ma sono venuto tre giorni prima che la consegna a Locarno dall'Olanda due esperti dello stato olandese per vedere cosa stava facendo e quando hanno visto che stava ancora lavorando naturalmente ha disegnato tutto il cerchio ho detto di non andare neanche a questionare che era possibile se non faceva un po' storto il cerchio andava bene ma guai con il cerchio perché i democratici oggi non sopportano la geometria del cerchio e va bene e sono andato a presentare il cerchio e naturalmente mi hanno insultato ingiugliato mi hanno dato tutti i titoli di tutti i titoli che non ho mai ricevuto dalla mia vita mi hanno dato dal fascista quasi dal nazista eccetera che andavo a imporre all'Olanda un'idea centrale ecco questo è poi il piano generale e poi quando sono dato a presentarlo c'è la mia carissima amica Francesco Sanzioni che è qui presente e mi ha fatto venire un'idea bellissima ma guarda che la bandiera europea è esattamente il tuo progetto identico le città torno un cerchio un cerchio perfetto e l'ho ringraziato gli olandesi in quella presentazione dicendo per fortuna mi avete avete servito qualcosa questa vostra presenza perché la vostra bandiera dell'Europa Unita è uguale al mio progetto quindi io non sapevo che l'Europa Unita era uno stato una nazione dittatoriale non fascista e nazista perciò l'ho saputo oggi vi ringrazio che ho presentato questo piano e poi grazie termine come abbiamo visto tutti i progetti presentati come si è detto tentano di dare una risposta sia ai tempi lunghi della città sia alle estensioni controllate della città diffusa gli urbanisti di oggi consci del problema dei tempi lunghi dell'evoluzione urbana ricordano a due atteggiamenti il primo è quello di prevedere sulla base di ipotesi il probabile programma di sviluppo della città la realtà però ci insegna che per la maggior parte dei casi queste previsioni non si avviano davanti a questa realtà e se ne comano quindi il cosiddetto piano aperto c'è un piano che permette alla città di muoversi diversamente da quanto previsto ma fatto ciò significa anche non prendere decisioni perché il miglior piano aperto è l'assenza di piano che costa anche molto bene dopo sull'estensione controllata della città non ci sono però chiare prese di posizione a questi atteggiamenti contrapongo due risposte alternative sull'estensione controllata della città ritengo assolutamente necessario porre dei limiti di crescita spazialmente riconoscibili a tutte le città europee al di fuori di essi come nella città antica la campagna all'interno di essi si propone la massima densificazione e in risposta ai tempi lunghi di evoluzione della città rispondo con progetti con i tempi corti dell'architettura con progetti quindi compiuti se ha così la possibilità di valutare in brevissimo tempo la bontà della soluzione senza dover attendere nei tempi lunghi l'efficacia o meno del piano il progetto deve essere in grado di permettere all'interno dei limiti stabiliti la massima flessibilità questo significa l'inutilità di grandi programmazioni destinate a rimanere lette la morta e a permettere alle città di agire al momento che si pongono i problemi e non molto tempo prima da questi progetti oltre a queste due alternative mi sono riferito al mio aforismo che lo vedete qui l'architettura è vuoto tocca a te definirlo se questo aforismo è comprensibile per la città storica basti pensare alle piazze alle strade ai vicoli e via dicendo definiti dagli edifici del contesto storico gli spazi pubblici per l'eccedenza sembra invece opinabile per la città attuale la città diffusa dove il vuoto tra gli edifici è un resto senza significato per questo motivo in assenza di un contesto significativo gli architetti attuali si rifugiano spesso sull'oggetto sestante ricorrendo all'invenzione formale a tutti i costi all'originalità con l'intenzione di proporla come monumento ma in assenza del contesto significativo a cui il momento della città storica si riferiva non risulta altro che una sommatoria di singoli edifici che non fanno altro che contribuire alla monotonia della città attuale nei miei progetti ripropongo invece l'importanza del vuoto anche nella città attuale dove esso viene definito soprattutto non tanto dagli edifici ma dalle infrastrutture viarie e ferroviarie assumendo più ampie dimensioni per questo motivo ho riscritto questo uforisma nel seguente modo l'architettura è vuoto tocca a te definirlo ma questa volta scritto in lettere maiuscole infatti se prima pensavo che esso non aveva più senso oggi dopo le mie ultime esperienze progettuali ritengo invece che abbia acquistato ancora maggiore forza come ho iniziato terminerò anche con una citazione della mia conferenza inaugurale di Lausanna da parte di Max Frisch Max Frisch grande scrittore svizzero e anche primo architetto nel suo discorso per il 75esimo anniversario parlando del fallimento dell'illuminismo al quale si riferiva disse allora Max Frisch una scienza arrivata della sua ragione morale e per conseguenza una ricerca scientifica di cui nessuno è in grado di assumersi risultati significa la perversione dell'illuminismo che doveva renderci maggiore oggi l'illuminismo è una rivolta contro la fede cieca verso la tecnologia che rende l'uomo primitivo e che lo conduce all'impotenza di fronte alla tecnologia stessa alla fine dell'illuminismo non c'è come lo sperava Kant e tutti gli illuministi l'uomo maggiorenne ma il vitello d'oro mi sento solidale con tutti coloro che qui e nel mondo praticano la resistenza resistenza anche contro una legalità intesa come stratagemma opposizione con l'obiettivo e l'affermazione dello spirito dell'illuminismo prima che sia troppo tardi ma questo non come ripetizione della storia ma attraverso delle esperienze storiche tese verso dei tentativi di persone maggiorenne per poter vivere il suo temo che senza un'apertura verso la ragione morale che può solo venire dalla resistenza non ci sarà un prossimo secolo un appello alla speranza e quindi un appello alla resistenza grazie da ascoltare